Non affitto agli stranieri, andate al vostro paese che è meglio. Era talmente sconvolto da questa risposta che non ha avuto neppure voglia di ribattere il piacentino che stava cercando casa attraverso un sito internet, peraltro non specializzato in compravendite immobiliari. Ma l'occasione sembrava interessante e la presentazione del bilocale lo aveva incuriosito, così come da indicazioni ha scritto un messaggino al numero indicato. L'inserzionista, una donna, gli ha però risposto che non avrebbe mandato le foto dell'appartamento se prima non si fossero sentiti al telefono. Ho avuto il forte dubbio, leggendo anche alcuni passaggi finali dell'inserzione, spiega il protagonista della vicenda, un trentenne piacentino, che volesse sentire la mia voce per verificare che non fossi straniero. Quindi ho troncato la chat, dicendole che non ero più interessato. Un atteggiamento che non è piaciuto alla sedicente proprietaria dell'abitazione. Maleducato o maleducata, ha risposto la donna. Sarai uno straniero. Non affitto di certo a gente come voi. Andate al vostro paese che sarà molto meglio. Una presa di posizione che se non richiama il razzismo ci va molto vicina. Casi simili hanno caratterizzato anche recentemente altre città italiane, qualche settimana fa la vicinissima Lodi ad esempio, suscitando molto clamore. Ma c'è un dettaglio che il protagonista della vicenda non si spiega. Io ho scritto con whatsapp, chiarisce il piacentino. Quindi dalla mia foto, ben visibile, si capisce che sono un maschio e sono italiano. Per questo la risposta mi è sembrata ancora più irrazionale, carica di rabbia e voglia di ferire. Provane sia che sono stato immediatamente bloccato e non posso più interagire con questa persona. Ma tutto sommato è meglio così.